Minister, come si fa a tornare dallo stadio dei Marmi con un risultato positivo? Dobbiamo fare una prestazione importante perché anche essendo in emergenza con squalificati, infortunati e quando parlo di prestazione importante vuol dire che i giocatori che vanno in campo devono fare il doppio rispetto a quello che è la norma perché siamo anche in meno. Ecco, com'è la situazione in casa Pistoiese? Sì, Zanon, Romiti e Colombo non sono recuperabili e poi abbiamo due squalificati come Guglielmotti e Bellazzini per cui siamo sempre un attimino in emergenza. C'è da dire però che alcuni giocatori avranno la possibilità di giocare da primo minuto e avranno la possibilità anche di dimostrare le loro qualità. Per Fissore e Sparacello c'è possibilità di vederli da primo minuto? Direi di sì, è la prima partita che possono fare per cui credo che non è mai facile inserire dei giocatori che arrivano da 15 giorni però insomma ho visto la buona volontà da parte di tutti e due e sono stati integrati, si sono integrati subito col gruppo per cui questa è la cosa principale. Il sistema di gioco possiamo cambiarlo nel senso che possiamo cambiare da un 4-3-3 a un 4-3-1-2, lo vedrò in campo. Come gioca di solito la Carrarese? Come si può fare a mettergli i bastoni fra le ruote? Di solito giocano con un 4-3-3, hanno delle varianti però ultimamente mi sembra che abbiamo sempre giocato con quel sistema di gioco. Bisogna avere la capacità di non concedere spazio e profondità a giocatori importanti come hanno loro. Tutte le partite adesso servono sempre da sparti acqua. I tre punti sono sempre fondamentali per cui bisogna affrontare tutte le partite allo stesso modo non mollare un attimo, avere la capacità di rimanere in partita per 95 minuti perché solo quello ci può dare la possibilità di arrivare a raggiungere i nostri obiettivi. Una chiave che potrebbe essere importante a Carrara domenica? La velocità e la rapidità di esecuzione l'intuizione immediata delle poche situazioni che la Carrarese ci concederà.